L'itinerario della bellezza è il simbolico titolo del progetto di promozione turistica ideato e messo in atto da Confcommercio, Pesaro Urbino, in procinto di compiere 75 anni dalla sua istituzione per valorizzare tutto il territorio provinciale rendendone note le eccellenze attraverso una guida che permette ai comuni presenti di fare rete. La presentazione ai giornalisti è avvenuta martedì 21 luglio presso il Teatro Comunale di Gradara. Borgo già eletto tra i più belli d'Italia da annoverarsi tra le new entry del viaggio proposto e consigliato da Confcommercio. Promotore principale, il direttore Amerigo Varotti, ha posto l'accento sull'ambizioso obiettivo del progetto di comunicazione a 360 gradi di rilanciare il turismo e sottolineare l'importanza di un territorio ricco di storia, arte, cultura e paesaggi naturali per tutti i gusti tramite varie tipologie di itinerari, da quello romantico all'archeologico. Sono ben 12 infatti le tappe individuate e che sono andate via via aggiungendosi per poter attraversare in maniera trasversale la bellezza emanata e raccontata da tanti artisti nati o solo di passaggio tra il Pesarese e l'Urbinate senza sottovalutare alcuna zona che possa nascondere qualche tesoro artistico o folcloristico e toccare così con mano quanto i singoli comuni abbiano da offrire anche ai cittadini locali alle prese con una stagione vacanziera più oculata nelle spese a causa degli effetti economici della pandemia. Ecco allora che un itinerario pressoché a chilometro zero, il cosiddetto turismo di prossimità, può trovare il suo degno spazio tra le mete più gettonate a lunga distanza, permettendo, in molti casi, di riscoprire le proprie radici e di incentivare una conoscenza più approfondita del luogo d'appartenenza, sostenendo realtà piccole ma certamente da considerare. Partendo dalle località balneari di Fano, Pesaro e Gabicce Mare, l'iter delineato si propone di enfatizzare cittadine dell'entroterra, la Urbino di Raffaello, Pergola con il suo museo di bronzi dorati, Fossombrone con il sito archeologico Forum Semproni e Museo Vernarecci, Sant'Angelo Invado con la Domus del Mito, Terre Roveresche, Mondavio, Colli al Metauro, Gradara, Cagli e Sassocorvaro, un territorio eterogeneo e poliedrico per storia, architettura, affascinante varietà florofaunistica, dal mare alla collina sino all'appennino e non da ultimo anche sotto il profilo enogastronomico, punta di diamante del percorso. Itinerario della bellezza è il progetto promosso da Confcommercio, lei è il promotore principale, quali sono gli auspici che si propone di raggiungere questo progetto, soprattutto quest'anno con il Covid alle spalle, speriamo. Sì, la domanda è corretta, perché il progetto nasce tre anni fa con cinque comuni che avevano messo al primo punto della loro attività la valorizzazione dei beni turistici, dei beni culturali delle loro città per un nuovo modello di sviluppo economico. Da cinque siamo passati a otto, poi a dodici comuni. L'itinerario è un insieme di attività di promozione e valorizzazione turistica da una guida che viene distribuita negli hotelli, gli uffici yacht, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, l'organizzazione di education con la stampa specializzata e con le agenzie di viaggio, la comunicazione sul web, social, blog, pubblicità, insomma è un insieme di attività che rientrano nel compendio del marketing turistico. Quest'anno siamo partiti molto bene, perché abbiamo presentato l'itinerario della bellezza alla BIT, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, poi abbiamo fatto la fiera di Moluse in Francia, di Verona, di Monaco e di Baviera, poi è successo il finimondo, è successo il coronavirus, per cui abbiamo modificato, non è che ci siamo fermati, abbiamo modificato la nostra attività puntando molto di più sui social, sui blog, webinar con agenzie di viaggio e poi dalla riapertura dei musei del 18 di maggio abbiamo ripreso anche a fare attività di comunicazione sulle riviste a livello nazionale. Quello che ci aspettiamo quest'anno è il fatto che l'itinerario della bellezza è la risposta sicura, sostenibile, ad un turismo che per quest'anno sarà sempre un turismo di prossimità, più legato al mercato interno, più legato anche ai marchigiani o ai residenti nelle province limitrofe che hanno l'occasione per visitare o rivedere luoghi di grande bellezza approfittando del fatto che questi sono luoghi dove il turismo è veramente sostenibile, in queste zone non c'è l'over tourism, qui la gente può tranquillamente camminare, sedersi, passeggiare e ammirare le bellezze che ci hanno lasciato gli artisti del passato, insomma da Raffaello, a Piero della Francesca, a Leonardo da Vinci per ricordare solamente gli ultimi e anche con un'offerta di turismo balneare che è molto diversa rispetto a quella, ad esempio, della vicina regione. Il fatto che c'è questo parco naturale, parco regionale del San Bartolo garantisce a Gabice Mare che è la porta d'ingresso della nostra provincia, della nostra regione ed è anche la porta d'ingresso dell'itinerario della bellezza garantisce una salubrità ed un clima che altre località non hanno. Quindi questo itinerario della bellezza che andava bene già negli anni precedenti quest'anno acquista un valore maggiore proprio alla luce dell'esigenza da parte dei turisti di ricercare luoghi non compromessi dal punto di vista ambientale e sanitario dove il distanziamento è un fatto naturale, dove non c'è affollamento e per questo che noi abbiamo deciso di riprendere anche localmente le attività di comunicazione e di promozione ripresentando oggi a Gradara anche con il sindaco di Gabice Mare, con il sindaco di Gradara questo itinerario ma anche perché nei prossimi giorni avremo delle grosse novità perché durante il lockdown non abbiamo dormito, come dicevo ma abbiamo anche elaborato nuovi progetti usciremo a giorni con una nuova edizione dell'itinerario romantico che fa parte appunto dell'itinerario della bellezza una nuova edizione perché nel frattempo si è aggiunto un altro comune che è Sasso Corvaro dove è notorio che ci sono le reliquie di San Valentino quindi quale è il luogo più romantico del luogo dove ci sono le reliquie del patrono degli innamorati mentre usciremo credo ormai in agosto anche perché in agosto comunque lavoreremo usciremo con un nuovo prodotto che è l'itinerario delle rocche di Francesco di Giorgio Martini e Palazzo Ducale di Urbino ricordando che Francesco di Giorgio Martini nel 1474 venne invitato da Federico da Montefeltro a completare il Palazzo Ducale di Urbino e venne incaricato anche di fortificare il Ducato costruì più di 130 opere tra civili, militari e religiose le più belle dal punto di vista militare sono tutte all'interno dell'itinerario della bellezza e quindi usciremo con un nuovo prodotto che sicuramente incontrerà l'interesse degli appassionati di arte di cultura medievale rinascimentale spesso si parla di questi luoghi come delle mete minori però questo termine è improprio e forse l'itinerario della bellezza lo dimostra sì, è un vezzo antico quello di chiamare l'Italia quello del Grand Tour le grandi città e gli altri centri minori allora io mi chiedo cosa c'è di minore in un luogo come Cagli dove abbiamo dei dipinti straordinari di Giovanni Santi che è il padre di Raffaello dove abbiamo dei palazzi rinascimentali medievali bellissimi come può definirsi centro minore Gradara con una rocca un castello straordinario un borgo medievale intatto l'unico credo in Italia con la doppia cinta muraria come può essere definito centro minore urbino patrimonio dell'umanità patria di Raffaello con un palazzo ducale che è una città come diceva Baldassare Castiglione che appunto proprio in questi giorni si è inaugurata la mostra curata da Vittorio Sgarbi dice il più bel palazzo che in Italia ci sia un palazzo a forma di città in una città a forma di palazzo quindi è un vezzo antico in realtà questa è l'Italia vera quando noi andiamo all'estero a promuovere l'Italia ricordiamo che l'Italia vera è quella dei centri più piccoli dei borghi e proprio nelle marche il policentrismo culturale cioè il fatto che in ogni borgo troviamo un castello troviamo un teatro troviamo una biblioteca troviamo un museo è quello che anche i turisti stranieri si aspettano del nostro paese una grande rilevanza ce l'ha anche l'aspetto enogastronomico quali sono gli appuntamenti di quest'estate legati a questo aspetto? ma quest'estate dal punto di vista enogastronomico noi abbiamo predisposto due progetti che usciranno nei prossimi giorni siamo un po' in ritardo per la verità comunque un'iniziativa per riabituare la gente a ritornare al ristorante si chiama questa sera cena da quindi i ristoratori della provincia hanno scelto liberamente una o due sere alla settimana quindi alla sera con dei menu a base di prodotti tipici vini della provincia prezzi liberi ma prezzi promozionali per riabituare la gente a ritornare nei ristoranti anche perché i ristoranti sono nella stragrande maggioranza dei casi i luoghi dove ancora il distanziamento viene confermato cioè noi vediamo in giro insomma c'è un po' di confusione quasi nessuno si ricorda che il coronavirus è ancora lì nei ristoranti invece il distanziamento viene effettuato e allora abbiamo necessità di rincentivare la gente a ritornare al ristorante con questa sera cena da ripartiranno invece subito dopo ferragosto l'edizione dei week gastronomici da mare che riguarda i ristoranti della costa adriatica e durerà fino al 30 di settembre ma verso la fine di settembre partirà l'edizione autunnale dei weekend gastronomici d'autunno che è l'evento più noto più famoso perché lo facciamo da 36 anni quindi insomma sono tutte iniziative che mirano a ricreare la fiducia da parte dei consumatori valorizzare i ristoranti e riportare la gente all'interno dei ristoranti ovviamente poi ci aspettiamo l'autunno la possibilità di poter rifare anche le fiere del Tartufo di Pergo di Sant'Angelo in Vado ma questo lo vedremo più avanti Qual è l'apporto di Riviera Banca a questo progetto di promozione del territorio? Beh la banca per sua natura Riviera Banca è proprio legata al territorio una banca del territorio e quindi affianca alla tradizionale attività bancaria un'attività sociale culturale di prevenzione e cura della salute e tutte le iniziative che riguardano il territorio che riguardano i giovani che riguardano gli imprenditori ecco questa è un'iniziativa alla quale partecipiamo già da diversi anni e siamo orgogliosi di partecipare insieme alla Camera di Commercio a questa manifestazione che fa riscoprire i nostri luoghi fa scoprire le bellezze naturali dei nostri paesaggi dei nostri monumenti dei nostri musei la nostra cultura e quindi siccome è una banca proprio i cui valori si basano su queste cose si basano sulla persona si basano sul contributo alle attività alla crescita e non potevamo non essere non collaborare con questa iniziativa itinerario della bellezza promuove il comune di Gradara e Gradara viceversa promuove l'itinerario della bellezza con il suo prestigio si è una rete di luoghi di eccellenza viviamo in un territorio bellissimo e tutti insieme Gradara ma anche gli altri 12 comuni offrono le loro eccellenze per essere ancora più incisivi nella promozione turistica e culturale solo in questo modo è possibile vincere una competizione turistica molto elevata in campo internazionale ma soprattutto entrare nell'immaginario e nei desideri delle persone che vogliono andare in vacanza offrendo un ventaglio di possibilità che spazia dal mare la cultura all'arte alla storia alla romanità abbiamo tutto in questo territorio messo a sistema in modo intelligente e sistematico è un'arma invincibile da promuovere nei mercati come nasce proprio la consapevolezza del fare rete con gli altri comuni e quindi di non avviare una competizione direi che è una cosa umana innata quella di collaborare grazie alla collaborazione e alla specializzazione che l'essere umano si è evoluto e ha vinto la battaglia evolutiva quindi portando sul fronte turistico e culturale e di promozione questo aspetto che è nato all'uomo non può che essere vincente è nato all'uomo anche alla competizione questo è vero chiaramente ma va superato questo aspetto i campanili abbiamo visto che non funzionano in Italia purtroppo siamo famosi per questo aspetto di chiusura questo è un ottimo progetto per tentare di infrangere queste barriere e cominciare davvero a lavorare insieme a lavorare insieme a lavorare insieme a lavorare insieme